Amici e amici di Rossini TV, benvenuti anche questa sera al nuovo appuntamento con check-up Obiettivo Salute, direttamente dalla struttura Fisioradi di Pesaro. Incontreremo oggi un fisioterapista, un giovane fisioterapista di origine albanese, si chiama Alion Sciarca, viene quindi dall'altra parte dell'Adriatico, ormai è radicato qui nella nostra città, nella struttura dove lavora tantissimo, perché? Perché è molto, molto, molto formato, l'apparato muscolo-scheletrico e in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale. Tante volte anche nel corso di queste puntate abbiamo parlato di ernie, oggi Alion ci spiegherà esattamente cosa significa avere un'ernia discale e come fare sia per prevenire il problema e quindi magari non soffrirne, sia per intervenire nel momento in cui si manifesti. Ed eccoci qui. in studio con Alion Sciarca. Alion, buonasera e siamo contenti che sei con noi. Buonasera. Grazie a te Alion. Alion è specializzato nell'apparato muscolo-scheletrico, è un fisioterapista che lavora molto sul nostro apparato muscolo-scheletrico e ha una buona esperienza per quello che riguarda soprattutto il trattamento conservativo dell'ernia discale. Ernia discale che è un male, un dolore che purtroppo tanti di noi, tanti di noi, tanti di noi pazienti conosciamo e nel momento in cui lo sentiamo nominare, subito anche qui ci viene un po' la pelle d'oca, però magari Alion, tu adesso ci racconterai esattamente di cosa si tratta e quindi magari anche di come meglio trattare questa patologia. Buonasera. Oggi parliamo dell'ernia discale, come l'hai detto pure tu, quindi è una patologia molto diffusa della colonna vertebrale. Parliamo di colonna vertebrale che è costituita da 33 vertebre ed è suddivisa in tre curve principali che sono due curve della cervicale e della zona lombare che sono le curve lordotiche e la curva della zona dorsale che è una cifosi. Allora, l'ernia del disco viene soprattutto nella zona cervicale nella zona lombare. Tra le vertebre ci sono i dischi intervertebrali, quindi qua dobbiamo stare molto attenti perché quando parliamo di discopatie sono due tipi, sono le ernie discali e sono le protrusioni discali. La protrusioni discali è quando il disco intervertebrale si sposta da una vertebra all'altra, invece l'ernia è la fuoriuscita del nucleo polposo che si trova dentro il disco intervertebrale. Quindi dà dolore, è una condizione molto dolorosa perché questo nucleo polposo che fuoriesce dal disco intervertebrale va sulle radici nervose di tutti i nervi della colonna vertebrale e quando va a comprimere la radice nervosa, nervosa dà dolore. Molto spesso infatti quando si parla di sciatica, dolore al nervo sciatico parte tutto da lì. Sì, giusto, giusto, giusto perché questo nucleo polposo va proprio a comprimere su L4, L5 che è la radice nervosa da dove parte il nervo sciatico. E poi dopo si propaga spesso nella gamba dando forti condizioni dolorose, addirittura in certi casi rende quasi difficile l'utilizzo della gamba stessa. Alion, poi nel corso del tempo sicuramente l'approccio nella cura dell'ernia discale è cambiato, l'aspetto conservativo, l'aspetto anche dell'eventuale intervento. Tu hai un'esperienza che ti deriva anche dalle tue origini, quindi sicuramente avrai notato, avrai potuto toccare con mano il cambiamento dell'approccio della fisioterapia e le grandi possibilità che ci sono oggi per intervenire con la fisioterapia con successo anche sull'ernia. Sì, allora se andiamo molto indietro nel tempo, parliamo di 20-30 anni fa, andava sempre sull'approccio chirurgico, quindi il trattamento per le ernie era soprattutto chirurgico. Nel giorno d'oggi abbiamo visto che l'ernia discale si tratta soprattutto con la fisioterapia, anzi possiamo dire che si tratta solo 3-5% con la chirurgia. Si è visto nei anni che la fisioterapia, un percorso integrato tra il medico e il fisioterapista, funziona meglio rispetto a solo un intervento chirurgico. Quindi sì, nei anni è cambiato perché sono cambiate molto metodiche, sono cambiate molte cose e comunque un approccio conservativo è quasi sempre meglio perché il paziente non ha tutto il trauma dell'intervento chirurgico. Comunque sarà sempre il medico specialista quello che deve indicare la strada che il paziente deve seguire. E quando c'è dolore, quando c'è proprio questa fuoriuscita, provoca dolore, quindi effettivamente si infiamma tutta la parte, si può intervenire anche da un punto di vista farmacologico? Ci sono dei metodi per poter combattere questo dolore? Certo, certo, ci sono dei metodi. Allora, la strada che un paziente deve seguire quando ha un forte mal di schiena è che deve andare dal medico specialista, che in questo caso è il neurochirurgo. Deve fare una risonanza ad alto campo e nel caso in cui abbiamo un'ernia sarà sempre lo specialista ad indicare la strada migliore. Comunque sì, ci sono previsti i farmaci ed è prevista anche un approccio fisioterapico. Quindi sì, ci sono i farmaci, dopo ci sono anche altre metodiche che i medici usano oggi come lo zonoterapia e la terapia del dolore, quando il dolore è talmente forte che il paziente non riesce a muoversi. E poi appunto, l'hai accennato, c'è il percorso di fisioterapia, si fa in palestra, addirittura si chiama fisio-palestra mi pare, quindi è sicuramente un modo per poter lavorare in maniera molto naturale su questo disturbo. Sì, allora prima di andare sulla palestra, noi per esempio qua nel nostro centro fisio-radi facciamo anche il percorso integrato, prevede degli esercizi prima in piscina e dopo in palestra, a parte tutta la fisioterapia strumentale. Quindi il paziente prima va in piscina, fa tutti gli esercizi in scarico e dopo di che passa in palestra. È molto importante andare in palestra perché comunque il paziente deve rinforzare tutti i muscoli del corpo, i glutei, gli addominali, quindi deve prendere una nuova abitudine. Alion, in ogni pratica medica si dice sempre poi che prevenire è meglio che curare. Sicuramente anche nel caso della colonna, anche nel caso dei problemi legati poi all'ernia, ci possono essere delle metodologie e degli stili di vita che ci permettono di non ritrovarci in difficoltà poi con una patologia comunque così fastidiosa. Sì, è sempre meglio prevenire che curare perché comunque il paziente deve imparare, deve essere insegnato, educato a non avere delle posture scorrette nel suo lavoro, nella sua vita quotidiana deve evitare sovraccarichi, deve evitare tanti movimenti bruschi, quindi sì, la prevenzione è molto importante. Infatti noi nella nostra palestra facciamo questo, educhiamo i pazienti per un stile di vita più sano. Perfetto, grazie Alion. Un'ennesima dimostrazione di cosa vuol dire fisioterapia integrata con un centro medico come quello in cui ci ritroviamo. Ti ringraziamo perché ci hai chiarito molte delle cose che riguardano l'ernia, che noi tante volte sentiamo dire senza poi magari bene sapere cos'è e come approcciarla. Alion, grazie davvero. Grazie a voi. E buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.